Un'evasione da 1.400.000 euro. È l'ultima operazione della Guardia di Finanza che ha smascherato falsi enti no profit. Nei giorni scorsi si sono concluse le indagini nei confronti di una ventina di associazioni culturali e sportive che in alcuni casi, avvalendosi di particolari benefici normativi, nascondevano di fatto delle vere e proprie attività commerciali. Si va dalle associazioni culturali a quelle sportive che gestivano alcune palestre di fitness fino ad un'associazione che proponeva un'importante manifestazione in provincia frequentata ogni anno da tantissime persone, alle quali venivano somministrati pasti e bevande a prezzi commercialmente competitivi. Unico comune denominatore è simulare l'esercizio dell'impresa con l'iscrizione associativa del cliente, avvalersi del regime forfettario previsto da una legge del 1991 ed omettere la presentazione delle dichiarazioni e finiva. Gli accertamenti condotti dalle fiamme gialle retine hanno però dimostrato la totale assenza dei requisiti relativi alla partecipazione alla vita e alla gestione dell'associazione da parte dei soci, la mancanza dei requisiti relativi alla validità delle assemblee, del numero legale dei presenti e dell'effettiva partecipazione alle stesse, nonché la distribuzione indiretta degli utili, in alcuni casi l'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei compensi superiore al limite imposto dalla normativa antiriciclaggio. Ben 13 persone sono risultate essere impiegate al nero in forma irregolare. Nel corso delle operazioni è stato individuato anche un circolo privato che non solo permetteva il gioco d'azzardo del poker online attraverso una postazione internet connessa ad un sito non autorizzato dall'Agenzia dei Monopoli di Stato, ma è anche sprovvisto delle autorizzazioni amministrative sia per quanto riguarda l'esercizio dei giochi che per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate all'interno del circolo stesso. Un'evasione dunque da quasi un milione e mezzo di euro. In un caso si è proceduto al sequestro per equivalente dei beni immobili per oltre 100.000 euro riconducibili al titolare di un'associazione sportiva a garanzia del credito dovuto allo Stato.